quando avevo posto al direttivo ipso il titolo sentirsi vivi avevo in mente anche la mia storia personale e quanto lungo è stato il percorso per me per arrivare a sentirmi vivo sentirsi vivi è molto di più ed è molto diverso dall'essere vivi è una costante presenza a se stessi sentire le proprie mani i propri piedi proprio cuore anche la propria mente i propri ragionamenti i propri obiettivi e i propri sogni ma quello che accade durante il lungo processo di adattamento alla realtà che tutti noi dobbiamo attraversare e che il nostro sentirci vivi originario sentirsi vivo del bambino geniale che esprime vitalità gioia entusiasmo entusiasmo che significa avere dio dentro in ogni momento della sua giornata piano 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 vengono ridotti io uso spesso il termine mortificati cioè proprio resi un po più simili alla morte per adattarci a un sociale che non ha non è in sé naturale è la semplice conseguenza del modo di produzione industriale così come lo conosciamo in questa fase dell'esistenza ma vivere compassione è molto di più che sentirsi vivi sentirsi vivi può essere ancora semplicemente una funzione della consapevolezza ma la consapevolezza implica una certa quantità di distacco tra colui che è consapevole e l'oggetto della sua consapevolezza anche se questa è il suo corpo quello che in love non è suo ma è lui quindi colui che è consapevole ascolta se stesso ma ancora non fosse altro nella lingua italiana abbiamo una certa sensazione di distacco diverso è vivere con passione vivere con passione significa percepire ma senza distacco tra sé e se con piena continua gioiosa partecipazione nella buona e nella cattiva sorte grazie a tutti